Le valvole di aerazione o di emissione aria d'urgolira sono un componente necessario a qualunque impianto di acqua e di scarico. Dove c'è uno scarico, si crea una pressione negativa. Tale pressione negativa può causare lo svuotamento dell'acqua dai sifoni, generando cattivi odori che risalgono diffondendosi nell'appartamento. La valvola di aerazione d'urgolira elimina questo problema. Quando si crea la pressione negativa, la valvola di aerazione d'urgolira si apre, consentendo all'aria di convogliare nella colonna di scarico interna delle acque nere. Una volta eliminata la pressione negativa, la valvola di aerazione d'urgolira si chiude sigillandosi. In caso di contropressione, l'elemento di tenuta della valvola di aerazione d'urgolira si chiude ermeticamente. La valvola di aerazione d'urgolira è una valvola non meccanica, che viene attivata dalla forza di gravità, e purché installata verticalmente e in punto non soggetto al gelo, non richiede alcuna manutenzione. Le valvole di aerazione d'urgolira hanno un design flessibile, che offre notevoli possibilità di risparmio in termini di costi e manodopera per il sistema di sfiato. Le valvole di aerazione d'urgolira possono essere installate nel sottotetto, sotto un lavello, sotto un lavabo, in una parete, o in un supporto a muro. Il risparmio è anche in termini di materiale, compresi tubi e scossaline. Le forometrie multiple delle pensiline non sono più necessarie, e questo si traduce in ulteriore risparmio di manodopera e riduzione di possibili falle nei tetti. Le valvole di aerazione d'urgolira mantengono inalterato l'aspetto generale del tetto. La valvola di aerazione d'urgolira offre un'extra protezione in caso di incendio. Presso il FIRTO, l'organismo per la ricerca e le prove degli assicuratori dei rischi d'incendio, sono state condotte prove di resistenza al fuoco. Queste hanno dimostrato che per quanto attiene la propagazione delle fiamme nei piani, le valvole di aerazione d'urgolira fanno una differenza fondamentale. Nella prova sono stati installati due tubi nella canna fumaria di due diverse case. La casa 1 del test è stata sfiatata nell'atmosfera. La casa 2 del test è stata dotata di valvola di aerazione d'urgolira. I tecnici hanno quindi generato l'incendio nel primo piano di ogni casa. Nella casa 1 della prova, l'incendio si è propagato al secondo piano in 22 minuti attraverso il tubo di sfiato. Nella casa 2 della prova, dove era stata installata la valvola di aerazione d'urgolira, per propagarsi al secondo piano, l'incendio ha impiegato 104 minuti. La valvola di aerazione d'urgolira segnala in tempo utile eventuali ostruzioni presenti nel sistema di drenaggio e ventilazione delle acque reflue. In caso di blocco nel foro di scarico principale, il livello dell'acqua nella tazza del WC si presenterà più alto rispetto a come appare dopo il normale scarico, drenando lentamente. Questo perché la pressione dell'aria creata dallo scarico dell'acqua può passare attraverso l'ostruzione solo lentamente. In quanto dispositivo di segnalazione precoce, la valvola di aerazione d'urgolira consente di intervenire nel tubo per la pulizia, prima che si verifichi un blocco. La guarnizione è il cuore della valvola. La guarnizione è progettata per aprire la valvola tempestivamente. Quando non attivata, la valvola rimane sigillata. Questa funzione deve essere costante per l'intera durata di installazione del prodotto. La guarnizione piatta in dotazione è stata opportunamente ponderata per consentire l'apertura della valvola con bassa pressione e allo stesso tempo rimanere chiusa ermeticamente con pressione statica grazie al proprio peso. I gas comuni non compromettono la guarnizione. La guarnizione deve rimanere piatta anno dopo anno. A pressione nulla la valvola di aerazione d'urgolira è ermetica. La guarnizione brevettata d'urgo offre questi e altri vantaggi. Durgo ha collaborato nello sviluppo della nuova norma europea EN 12380 che fissa i parametri per i requisiti, metodi di prova e valutazione di conformità, delle valvole di ingresso aria per sistemi di scarico. La valvola di aerazione d'urgolira è un prodotto rivoluzionario che ha modernizzato gli impianti di ventilazione delle acque reflue in Italia e in tutto il mondo. Unitevi ai milioni di clienti soddisfatti di Durgo, installando la qualità delle valvole di aerazione d'urgolira.